Oh che carino, guardate che bel sorriso che c'ha, oh, oh, mi stanno inseguendo, mi stanno inseguendo, mi stavo inseguendo Ciao bambola, addio bambola Ciao a tutti da Carinelle e bentornati in quel loop malato e fuori di testa di Never Ending Nightmares Sono andata a vedere su internet come ottenere l'ultimo dei finali, quindi vi mostrerò qual è il percorso corretto partendo direttamente da questo capitolo qui Ci risvegliamo del bosco con nostra sorella che giustamente ci deve rompere le scatole chiedendo di inseguirla mentre noi siamo dei poveri asmatici che rischiano la vita ad ogni passo ma va bene, non giudichiamola Allora in questa parte del capitolo bisogna cercare di seguire le tracce di nostra sorella senza perderci e senza prendere il cammino sbagliato, cosa che in realtà credo di aver fatto la prima volta Nella prima strada bisogna andare sopra, infatti si possono anche vedere le improntine, stavolta le notate, la volta prima no, non so se anche negli altri pezzi si vedono Ecco nel secondo pezzo bisogna andare giù e quindi anche qua si vede, nella terza strada bisogna continuare andando all'ingiù Qua credo che non ci sia molta alternativa perché la strada era dritta e c'era soltanto quello, non era un bivio Qua bisogna andare all'insù, vedo anche le impronte di mia sorella, stavo dicendo, ma questa qua mi voleva interrompere Ah ecco siamo già direttamente al cimitero, allora mi sa che abbiamo fatto proprio la strada giusta Ok, ho capito, sto arrivando, maledetta Allora qua non ci sono le impronte, però noi dobbiamo andare giù e di questa cosa sono anche abbastanza sicura Perché l'abbiamo visto nella prima run Ok, qua nel bivio è anche abbastanza evidente che dobbiamo andare verso il basso perché si vedono comunque di nuovo le sue impronte Wow, cosa sta succedendo? Ci sono pipistrelli e gente che piange in sottofondo, è tutto normale? Oh wow, è già morta! Ah, non era morta così l'altra volta mi pare, mi sa che abbiamo sbloccato una scena nuova Morella Wow, ok, siamo tornati a essere dei bambini Wow, 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 siamo veniti sotto al letto cosa? Ok Wow, in realtà noi ci eravamo svegliati avendo lei come dottoressa In questo caso però c'è una bambola al posto della dottoressa quindi, ok Mi sa che ho fatto cose giuste Ora devo soltanto capire come fare a uscire di qua Tanto sappiamo già che andrà a finire molto molto male o no, siamo di nuovo nel coso psichiatrico Perché le cose devono sempre degenerare così, porca miseria Ma è una volta che tipo una di queste porte misteriose, casuali, mi porti, che ne so, in un campo fiorito Anzi, dovessero condurmi in un campo fiorito sicuramente sarebbe quello del computer Che si giocava tantissimi anni fa dove c'erano le bombe che mi esplodono in faccia e mi uccidono Perché ma è una gioia, giustamente Vi giuro che comunque a furia di giocare a questo gioco qua Sto arrivando a non sopportare più di sentire lui che mi continua ad ansimare nelle orecchie, porca miseria Uh, aspetta Eh, ok, non riesco a scappare, mi sa L'ho visto troppo tardi, vabbè, non fa niente Ok, mi pare evidente che devo camminare pian pianino per evitare di ansimare Perché sennò quello lì mi prende sicuro Spero che non salti fuori una manina da questa porta Facciamo il tentativo, ok, è andata bene Io non sono qua, non c'è nessuno, fidati No, 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 te lo stai immaginando, credimi Perché si deve triggerare ogni mezzo secondo, porca miseria Beh, siamo già quasi arrivati alla porta, ok Siamo in salvo, siamo in salvo Credo Adesso d'improvviso si mette a mangiarmi la faccia così saltando dal nulla Ah, qua qualcuno stava curando una bambola Perché stanno diventando tutti bambole? Cioè è diventata bambola Gabby versione dottoressa E adesso sono bambole e anche i pazienti, ok Io ho smesso di farmi domande molto molto tempo fa in questo gioco Perché tanto non si capisce O siamo di nuovo a casa Ok Va bene, prendiamolo come postulato Lasciamo perdere tutto quello che sta succedendo Non importa Questa è la camera nostra Noi eravamo stati imprigionati sotto questo letto qua Ah, comunque ho capito adesso che questa è camera nostra Tipo di quando eravamo piccoli perché hai soldatini La camera con le bambole è quella di Gabby Siamo nel bagno Pieno di bambole anche qua, giustamente Si sentivano sole, stavano organizzando un party Oh ciao, c'è di nuovo quella col buca in mano Che carino, guardate che bel sorriso che c'ha Oh, com'è bella Quasi quasi me la compro anch'io quella bambola Poi probabilmente si metterà tipo a parlarmi alle tre di notte Però vabbè Sono effetti collaterali comunque abbastanza discutibili Tiene compagnia tutto sommato Non lo so, prendiamo una porta a caso Perché non so più dove sto andando No, siamo tornati in camera mia Ho fatto la cosa giusta? Non ne sono affatto certa Forse ci sono più ragnatelle rispetto a prima Il bagno mi sembra più scuro però Quindi forse sì O forse no, è la stessa cosa di prima Non ne ho la più pallida idea E se provo ad andare invece a destra? Dove? Ah, c'è il corridoio Allora io provo ad andare in questa direzione Magari è quella giusta In teoria stiamo procedendo Quindi, ok Ovviamente la bambola infermiera Con una bambola sulla sedia a rotelle E una con la faccia spaccata Perché sì Oh Qua sono stati fatti i rituali Che cosa è scusami? Ci posso interagire però Insomnis veritas Credo che voglia dire Insomma verità Vabbè Allora Qua è dove dovrebbe esserci messo il libro E il leggio però è vuoto Qua hanno fatto tipo un altarino Non lo so Per dare delle offerte a qualcuno Con delle candele C'è anche una sorta di bara In realtà sembra una valigetta fatta bara Molto bella eh Per carità Mi sa che mi conviene continuare Per di qua Cioè oddio Mi conviene mica tanto Però non credo di avere altra scelta Purtroppo Olè Siamo di nuovo nel reparto psichiatrico Pieno di bambole Cosa potrebbe mai andare storto A parte la mia morte improvvisa Per la mia salute mentale Ormai non c'è più niente da fare Quindi Wow No si sono accorti di me Eh sì Perché stavo correndo Tra l'altro quanto è bella Questa bambolina Con i capelli rasati Non l'avevo notata prima Vai verso il basso Che così riesci a schivarlo Ah schivone Schivone Mannaggia Vai veloce Vai veloce Venga sicuro Venga sicuro Venga sicuro Venga sicuro No No Sapete cosa Io evito quella porta E provo ad andare dritto Magari c'è un'altra Andando sulla destra Oh porca miseria No 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 Siamo obbligati a passare Nella porta Io aspetto che quello lì Sia un briciolino più lontano Perché ovviamente Se gli cammino in faccia Si accorge di me Vai un po' in là Vai un po' in là Vai un po' in là Ok adesso credo di esserci riuscita Corri 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 Ok Ok siamo passati dall'altro lato Adesso siamo tornati di nuovo in casa Non siamo più nel coso Non lo so perché ci sono ancora i lettini Dell'ospedale psichiatrico Però non sono sicura di quale sia La nostra posizione al momento C'è una bambola suora Perfetto Sta andando tutto benissimo Ciao bambola demoniaca Oh sei di nuovo Gabby Che sbatte gli occhi Ma pensa te Prova ad andare verso questa direzione Sarà quella giusta No Perché siamo finiti nel bagno Siamo di nuovo nella stanza Della macchina da cucire Questa volta con un bambolotto abbastanza Abbastanza inquieta Oh mi stai seguendo Ciao bambola Vuoi dirmi che adesso le bambole puntano ad uccidermi? È una meccanica nuova? Mi mancava questa Devo dire che non c'erano ancora abbastanza cose Che puntavano a vedermi morto E niente proseguiamo nel corridoio Ci sarà sicuramente qualcosa Eh Questo è di nuovo il corridoio Dove tipo vedevamo piovere dalla finestra E poi c'erano fulmini e cose È sempre più buio comunque È sempre più pieno di bambole Ok Fine del corridoio Non è successo niente Stranamente nessun jumpscare Oh ciao bambolina Sei di nuovo Gabby? No Sei un'altra delle bambole rotte Mi spiace un po' comunque Sono così maltenute E pensare che è una fantastica collezione Che invidio tantissimo Non è vero Siamo finiti tipo in una stanza checkpoint? Sì apparentemente sì Anche se a metà tra la casa e l'ospedale Perché c'è il lavandino Che sembrava quello appunto Dello ospedale psichiatrico Qua c'è anche un lettino di quelli con le cinghie Però siamo comunque all'interno di casa nostra Ok qualcuno sta piangendo Questo è l'armadio di camera mia Ma questo Oh no la bambola la bambola Corri Che ho fatto? A quanto pare è soltanto quella bambola Tipo che ha la coda Con i capelli ricci E quella che mi insegue Le altre no Ok però Oh c'è quella bambola che ha sbattuto gli occhi L'avete vista? Sta piangendo Esce qualcosa dagli occhi? Ah non lo so Però non ci posso interagire Quindi noi andiamo avanti Senza farci domande Questa bambola qua Sta giocando a un due tre stella Guarda il muro Ma vabbè Siamo tornati però nell'ospedale Ah ho sentito già rumore di uno zombie Mi sa che non devo correre Andiamo pian pianino Cammina verso il basso E di nuovo sparita la musica Tra l'altro in tutto questo Non lo so In questa zona qua del reparto psichiatrico Comunque vai Viene la musica Devo andare all'insù Devo andare all'insù Ok Ok ho fatto la cosa giusta Credo devo scendere di nuovo Ma non stagli troppo vicino E vabbè di nuovo musica Addio vabbè E qua c'è la porta in cui uscire Credo Presumo Non lo so Ce la faccio ad arrivarci in tempo Dimmi Si è accorto di me Si è accorto di me Ma forse ce l'ho fatto Ok Ce l'ho fatta in tempo Eh Siamo di nuovo dentro la casa Eh Questa porta non è molto rassicurante Lasciate che ve lo dica Ed è una stanza checkpoint In realtà era abbastanza rassicurante Perché non c'era niente Che puntava ad uccidermi Oh c'è di nuovo la bambolina Fa vedere chi è questa volta Eh mi sa che si ripetono semplicemente Va a capire Oh Una bambola che mi seguiva Sono scappata Non importa Io non mi volto indietro E continuo ad andare avanti Ok Qua credo stessero facendo Esperimenti strani con le bambole Che sono sul lettino Sono tutte scatasciate Che cosa vuol dire scatasciate Tra l'altro Oh Mi stanno inseguendo Mi stanno inseguendo Mi stanno inseguendo Però non posso correre troppo Non posso correre troppo Uh Ok 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 Ce la sto facendo Adesso posso rallentare un attimino Corri di nuovo un po' Magari Quelle le mi inseguono Devo cercare di mantenere La stamina abbastanza costante Mi sta inseguendo anche quella Senza capelli In modo da riuscire a correre Senza però arrivare Tipo all'ultimo Che sono fregata Perché non ho più lo sprint E posso Non era neanche così complicato Ah Siamo finiti di nuovo Nella mensa Del reperto psichiatrico Mi pare di sì Ciao bambola Addio bambola Ok Questa è la cucina Questa è la carne macinata Della mia mano Che noi lo sappiamo benissimo Perché l'abbiamo visto Nell'altro finale E qua c'è di nuovo La mannaia Come nella prima volta Che siamo entrati In questa stanza Ah Quindi se stanno ricollegando Le storie Oppure un caso Bella domanda Ciao bambolina Che carina Guardate che bel sorriso Simpatico Proprio Metta allegria E dai Diventa di nuovo Sempre più scuro Ma perché Mi state facendo questo Ma mi odiate Oh Stanza checkpoint Sì Ma non era bloccato Nell'altra direzione Mi sto perdendo Tantissimo Perché mi perdo Di continuo Ah ma non era bloccato Quello ha mosso gli occhi Avete visto Ok siamo tornati In camera mia No non è vero Nella camera di Gabby E dai è però Lasciatemi in pace Cosa volete da me Oh Siamo di nuovo qua Vuol dire che ci saranno Gli zombie Devo andare pian pianino No c'è la bambola Devo correre quindi O forse è una via di mezzo Tra entrambe le cose Aspetta voglio vedere Qua dentro però Ok Non guardo mai più Dentro le stanze Aggiudicato Oh no c'è un'altra bambola Non devo andare troppo in basso Perché la zona buia È quella che si vede No Corri Corri bambino Ti prego Oh siamo di nuovo In camera di Gabby Salve bambole Qualcuno di voi Vuole uccidermi Si sta muovendo Il cavallino No non posso andare Da nessuna parte Però sono bloccata Qua No la bambola No la bambola No 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 Mi sa che sono obbligata A essere preso dalle bambole Oh sì Perché non posso più Scappare da nessuna parte Ok Siamo tornati in camera nostra Ma ho sbagliato Ma ho sbagliato tipo Sono tornata indietro Perché ho sbagliato qualcosa E sono morta Forse dovevo cercare Di scappare in qualche modo Non dovevo entrare In quella stanza Però era una direzione Obbligata Non lo so Magari può essere Che siamo finiti In una zona nuova del gioco Non è detto Che sia ricominciato Non lo sto capendo Veramente Oh C'è Gabby Quindi siamo Nella nostra infanzia È questo che mi state dicendo Oh che carino Le dà un bacino Invece di accoltellarla Stanno migliorando I loro rapporti Devo dire C'è voluto un po' di tempo Però no Che succede Hai vinto così Sognatore e ribelle Questo è l'ultimo shipment Fantastico ragazzi Abbiamo ottenuto Tutti i finali del gioco E fondamentalmente Non c'è molto altro da fare Quindi Mi fa piacere Che abbiate seguito il video Fino alla fine E non mi resta Che salutarvi E darvi appuntamento Alla prossima settimana Con un nuovo gioco Ciao a tutti